Wins nasce a Torino nel 2017, ma le sue radici affondano ben più lontano del tempo, nel 1958, quando il padre del nostro attuale CEO e fondatore Paolo Pietro Formiga fondò la prima scuola internazionale in Italia. Da allora fino ad oggi la mission di Wins è stata quella di formare i futuri cittadini del mondo e lo facciamo ancora oggi in un contesto totalmente multiculturale che valorizza il talento di ogni bambino e ragazzo. E attorno a questa mission c'è quella di formare i futuri cittadini del mondo che ruotano anche i valori fondanti di Wins, ovvero quello di cittadinanza globale, di eccellenza del curriculum dell'IB che proponiamo all'interno di Wins, di integrità intesa come formazione dello studente a 360 gradi come persona, il concetto di forward thinking ovvero di essere sempre all'avanguardia all'interno del panorama educativo internazionale e infine la passione che è il vero motore che anima tutti i nostri docenti, il nostro staff e che ogni giorno cerchiamo di trasmettere, di far vivere anche ai nostri studenti come veicolo per il loro apprendimento. Quando parliamo di ambiente multiculturale partiamo innanzitutto dal contesto che viviamo ogni giorno. In Wins infatti staff e docenti provengono oggi da quasi 15 nazionalità diverse e così le nostre famiglie abbiamo quasi 30 nazionalità diverse all'interno della scuola e questo non può altro che essere un fattore molto arricchente per tutti, dallo staff a naturalmente i nostri studenti. Wins offre un percorso di studio internazionale per studenti dai 3 ai 19 anni. Tale percorso di studi è composto di tre programmi educativi. Ciascuno di questi programmi si rivolge ad una specifica fascia d'età. Il programma degli anni primari o PYP è rivolto a studenti di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Il Middle Year Program o MYP è rivolto a studenti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. Il diploma program invece è rivolto a studenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni. Questi tre programmi sono perfettamente allineati dal punto di vista metodologico e didattico e sono caratterizzati da una visione educativa potente che dà coesione a questo continuo. L'idea centrale di tale offerta formativa è da un lato una preparazione accademica di eccellenza, dall'altro un percorso di formazione di tipo più personale, non strettamente accademico, che possa e sappia sviluppare nei nostri ragazzi quei principi morali, quei valori etici che stanno alla base del concetto di cittadinanza globale. Questo congiunto di valori e qualità umane è conosciuto come IB Learner Profile ed include qualità quali l'essere compassionevoli, avere una mentalità aperta, essere dei buoni comunicatori, volendo ovviamente menzionare soltanto alcuni di questi attributi. Da un punto di vista più propriamente didattico, i nostri docenti utilizzano la metodologia costruttivista o inquiry based learning, cioè una pratica educativa all'interno della quale lo studente è il vero protagonista del processo di apprendimento e la curiosità è il motore del processo di ricostruzione di questo sapere. Il processo di apprendimento è poi di tipo esperienziale, cioè è basato sul studio di casi reali e sulla sperimentazione, condotta sia in classe sia in contesti extracurricolari. Infine, attraverso la scelta di contenuti didattici che superino i confini disciplinari, culturali, nazionali e geografici del nostro contesto, noi aspiriamo a promuovere nei nostri studenti una mentalità internazionale che sappia, cioè, trascendere i confini non solo fisici, ma anche culturali della nostra società. At WINS, our primary years program begins in the early years, which includes nursery, pre-K and kindergarten. Our primary years program includes transition grade 1 to grade 5. The main features of a strong international education would include academic excellence, opportunities for students to learn the big ideas and the concepts through transdisciplinary units, the English language skills, as well as a well-balanced curriculum that offers many different opportunities for students to learn and interact with the subject matter in a fun and hands-on way. At WINS, we pride ourselves in our international curriculum, which is rooted in the approach and the philosophy of the international baccalaureate. Our learners aim for academic excellence and our teachers and staff all believe that all children can achieve at high levels, and so we tailor our curriculum to meet the individual needs of our students. At WINS, an important feature of our international curriculum also includes the Italian language and Italy's rich academic traditions. So when the teachers meet to develop our curriculum each year, we are sure to include standards from the Italian national curriculum for geography, history and science. The MYP is divided into lower MYP and upper MYP. Grade 6, 7 and 8 are lower MYP and grade 9 and 10 in upper MYP. If you're Italian, you're familiar with the Terza media exam and this is the moment in which our students progress from lower MYP to upper MYP. One important and culminating moment in the MYP is in grade 10, where students do the personal project, where they can show all the knowledge they have gained throughout the MYP program. The MYP aims to develop active learners and internationally minded students who can emphasise with others and pursue lives of meaning and purpose. We have furthermore projects such as the study hall, which takes place after lunch each day. In this time, students can take responsibility of their own learning, completing homework, catching up with missed staff, asking for support or organise for group work. We have the WINS GEMS program where the students are divided in four houses named after GEMS. This is a way to reinforce positive behaviour and it's even a way to engage in in our school community and even academic achievements are awarded in this program. The IB program is designed to be a rigorous two-year program for IB students. The program develops students into being well-rounded and highly intellectual individuals. The pressure that is created by this very short two-year span allows students to develop efficiency and organisational skills which are definitely needed in further careers and in academical careers. Not only this, but the CAS projects and experiences that these students go through allow them to develop on a personal level. This way students become risk-takers, engaging with others outside of school, they learn communication skills and all this together helps the students to further their academic and future career paths. Aver frequentato il programma del Diploma del Vacilierato Internazionale significa poter vantare l'appartenenza ad un gruppo selezionato di studenti in possesso di una qualifica prestigiosa che è apprezzata a livello internazionale per il rigore accademico che la contraddistina. La reputazione indiscussa di tale programma garantisce la mobilità geografica e culturale degli studenti e ne facilita l'accesso alle più prestigiose università del mondo. È infatti dimostrato che gli studenti del diploma dell'IB hanno più facilità di altri ad adattarsi al tipo di impegno accademico richiesto dagli studi universitari e pertanto riescono ad ottenere risultati migliori. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!